Si avvicina l'estate e la ricerca di lavoro per molti stagionali è quasi una missione. Nasce così l'SOS Lavoro, l'iniziativa di TNI Italia, Feder Terziario, il sindacato del mondo della ristorazione e recettività che per semplificare l'incontro tra domande e offerta nel settore oreca ha pensato di generare uno sportello virtuale aperto H24 tutto l'anno. Così chi cerca impiego in ristoranti e bar, alberghi, può inviare il proprio curriculum e mettersi in contatto direttamente con le aziende iscritte a TNI Italia. Il curriculum si potrà inviare a infochiocciolatniitalia.it, mentre per accedere allo sportello basterà collegarsi al sito www.tniitalia.it e scrivere un messaggio nella chat SOS Lavoro. Michele Tornatore, coordinatore per la Sicilia di TNI Italia, Feder Terziario, dice, è un'iniziativa per contrastare il lavoro nero ed agevolare imprenditori del mondo della ristorazione e recettività e i lavoratori.